Difesa di un diritto, un diritto che uno acquisisce alla nascita, cioè quello di avere due genitori che decidono di fare un figlio. Questo figlio è giusto che venga riconosciuto e sia riconosciuto con entrambi i genitori. Questi genitori hanno deciso legalmente in altri paesi di fare un certo tipo di processo per portare alla nascita il figlio e il figlio è nato. Una volta che è nato il figlio non può avere un discrimine, non può non andare all'estero con uno dei due perché non è il genitore, uno dei due non può andare a prenderlo a scuola se non con una delega. Ci sono tutta una serie di diritti che vengono legati ai bambini e arriviamo già all'Italia a avere i bambini di serie A e di serie B e questo è inconcebibile. Senza dubbio è una scelta politica che abbiamo annunciato durante la campagna elettorale, siamo conseguenziali, pensiamo che i diritti siano il centro della mozione. Non andiamo a cercare cause, effetti, alchimie strane che succedono prima. Non ci interessano i bambini che sono nati e che hanno davvero il diritto di avere i diritti di tutti i bambini.